Ciao ragazzi, oggi vedremo come si costruisce un cabinato arcade. Un cabinato arcade non è nient'altro che una console retro che c'era nei bar negli anni 80 e 90. Per l'esattezza noi costruiremo un bar to barcade. Il bar to barcade non è nient'altro che un cabinato arcade ma tagliato a metà, praticamente un mezzo busto, che è quello che vedete qui al mio fianco. Costruire un bar to barcade non è difficile, anzi è molto semplice. L'unico problema è che porta via molto tempo. Quindi ho deciso di dividere questo tutorial in tre fasi. Questa è la prima fase, che non è nient'altro che forare e assemblare il cabinato. La seconda fase sarebbe quella di rismontare il cabinato e avvolgere con una pellicola che ho comprato. Io ho comprato una pellicola a color carbonio. La terza fase è quella software. Praticamente collegheremo il computer. Io ho comprato un Raspberry Pi, l'ho già programmato. Vedremo come si installa la software, come si programma e come si collega la console. Iniziamo un'ultima. Questa sarà un'ultima. Sulla tuverà un aspetto. Questa è un'ultima. Questa è un'ultima. Visse qualcosa? Questa è un'ultima. Questa è un'ultima. Appena. Questa è un'ultima. Questa è un'ultima. Grazie a tutti. 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 a tutti.